Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video di Unbox Italia Oggi abbiamo un piccolo pacchetto ma bello pieno di questa azienda Ringke di cui ignoravo l'esistenza Mi ha inviato due cavi, due cover, un biglietto di ringraziamenti e un screen protector Tutto quanto per iPhone 11 come scrive ma in realtà è per iPhone 11 Pro Ok La prima cover che andiamo a vedere ha il loro diciamo classico design un po' rugged per così dire Costano veramente poco, su Amazon le trovate tipo intorno ai 6 euro Vi metto comunque tutti i link in descrizione C'è un piccolo film, una pellicola come vedete sulla parte trasparente che vi guidano a togliere e poi un buono sconto del 20% Ma andiamo a vedere un attimo questa cover come è fatta un po' più da vicino L'ergonomia non è niente male perché è molto rigida e questo è buono in una cover Basta che non lo sia troppo perché così non trasmetta proprio l'urto ma lo possa assorbire Questi sono i suoi bordi come vedete ci sono queste parti laterali che fuoriescono perciò non male I tastini sono fatti in questo modo c'è anche quell'anello per il laccetto e la parte sotto è comunque riparata e chiusa Personalmente non mi fa impazzire una cover del genere ma capisco che, sentite come è rigida capisco che in alcuni ambienti possa essere necessaria una protezione un po' maggiore a discapito dell'estetica Io sono più tipo da una cover di questo genere più trasparente, mi piace una cosa clear quasi invisibile, comunque rigida che devo dire la verità mi ricorda qualcosa quella di Apple ma vediamola anche qua più da vicino la parte laterale è un po' più morbidosa la parte dietro è più rigida anche qui gli anelli per metterci un filo per mettere quei cosi che si mette poi il telefono al collo che io non sopporto rigida anche questa perché la parte dietro è molto dura ma ripeto la parte laterale è morbida mi ricorda questa cover di Apple originale quella in policarbonato però una è aperta sotto l'altra è chiusa e ora la chicca del video questi bellissimi cavi molto molto resistenti il kit già prevede che dentro la confezione ce ne siano due e fa questo effetto strano un po' metallico c'è l'avvolgicavo che fa sempre bene e ha la forma di pesce lo vedete? c'è la bocca vicino al lightning e la coda dietro mentre questo invece sembra che abbia boccato e ha il filo che gli esce bellissimo c'è sia in versione nera che in versione argento e mi piacciono veramente un sacco sono proprio anche resistenti almeno io li sto usando da qualche settimana e fanno veramente il loro e sono veramente carini e si abbinano bene anche al colore del vostro iPhone che sia scuro o chiaro conoscevate questo marchio? se vi sono piaciuti i prodotti trovate i link in descrizione ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video sempre alle ore 9 ciao ciao Grazie a tutti.